Il governo italiano non vuole i miei soldi delle tasse, non vuole la sua parte equa, se equa la possiamo definire in maniera forzata, anche perché personalmente ritengo che anche il 26% sui profitti di investimenti e speculazioni sia eccessivo, soprattutto se rapportato ad altri paesi sviluppati. Ammettiamo il caso che il 26% fosse una parte equa, cosa opinabile. Ecco, il governo italiano non vuole la sua parte equa, ma vuole andare ad approfittarsi in maniera coercitiva di me e di probabilmente tutti quelli che stanno guardando questo video, perché notizia di poche ore fa, il governo italiano vuole alzare le tasse sui profitti fatti con Bitcoin, investimenti su Bitcoin e presumibilmente anche di tutte le altre criptovalute dal 26% attuale al 42%. Ecco, questo è un qualcosa di folle, questo è un qualcosa di completamente insensato andare ad alzare la tassazione sui profitti di investimenti e speculazioni dell'oltre 60%. In questo video, tra l'altro, molto velocemente andremo a parlare di Bitcoin che effettivamente ha pompato molto bene negli ultimi giorni, cosa correttamente prevista nell'analisi precedente dei miei precedenti video, andrò a mostrare ovviamente quindi anche i livelli dei miei prossimi trade, ma prima di andare a parlare di Bitcoin, appunto, è molto importante prima andare a parlare di questa notizia. Quindi l'annuncio è stato fatto questa mattina dal Vice Ministro dell'Economia e secondo loro queste misure serviranno per aiutare i giovani e le famiglie. E quindi partiamo subito malissimo, proprio perché la maggior parte dei criptoinvestitori sono giovani, ovviamente non tutti, ci sono anche investitori di 50, 60, 70 anni, ma una buona parte di criptoinvestitori e speculatori sono giovani. Quindi, ripeto, parliamo già in maniera molto incompatibile con la manovra stessa che vogliono attuare. E non c'è ancora una conferma ufficiale. La conferma ufficiale avverrà quando verrà pubblicata la legge di bilancio del 2025. A quel punto si avrà più chiarezza, si capirà se effettivamente andranno ad implementare questa cosa. Ho visto già diversi articoli online secondo i quali la tassazione aumenterà solamente per Bitcoin, non per le altcoin. Personalmente credo che sia solamente ignoranza da parte del Vice Ministro dell'Economia che non riesce neanche a parlare di criptovalute in maniera generale, ma parla dei cosiddetti Bitcoin. Quindi purtroppo, personalmente, credo che si entrerà in vigore questa legge. Saranno tassate non solo Bitcoin, ma tutte le altcoin. Ma ripeto, tutto ciò è surreale perché tutto fa questa potenziale manovra meno che migliorare l'economia. Proprio perché, innanzitutto, chi ha capitali importanti in Bitcoin, in cripto, che cosa fa? Prende e va all'estero, sicuramente. Non sta in Italia a farsi tassare del 42% su un investimento. Già le tasse sulle società, sulle SRL in Italia, sono tra le più alte del mondo con un'imposizione fiscale che va intorno al 60%. Ma parlare di tassazione sul capital gains, quindi sui profitti fatti dagli investimenti del 42%, è un qualcosa che, ripeto per l'ennesima volta, non ha proprio senso di esistere. Quindi appunto chi ha grossi capitali prende, se ne va e paga le tasse in un altro Stato andando a togliere lo Stato italiano, in questo caso dico anche giustamente, che ha piccoli capitali invece non è neanche più incentivato a dichiarare in molti casi. In molti casi conviene di più andare a pagare, a rischiare una sanzione rispetto che andare a farsi mangiare la metà dei soldi, dei profitti fatti. Quindi una scelta del genere cosa fa? Va a spostare i capitali, grossi capitali anche potenzialmente, verso l'estero e va anche a spingere verso l'evasione fiscale dei piccoli capitali. E quindi tutta questa situazione fa perdere la testa a me ma anche a tutti i criptoinvestitori e assicuro al governo italiano che non siamo in pochi. E ricordo anche al governo italiano che per essere un'economia competitiva a livello globale, per essere un'economia in fiorente crescita, l'innovazione e i settori innovativi vanno sostenuti, non penalizzati, non tassati sempre di più. Personalmente ho sempre pagato ogni singolo centesimo di tasse dovuto allo Stato e mi sono arrivati diversi commenti sotto ai miei video su YouTube, ma non solamente di gente che mi chiedeva se pagassi le tasse sui profitti oppure no e personalmente ho sempre incentivato, ho sempre detto che la cosa migliore è cercare di fare le cose corrette, di pagare ogni singolo centesimo dovuto. Ma mai come in questo momento sto seriamente pensando di trasferirmi all'estero. Ovviamente staremo anche a vedere quelle che saranno le novità, quelle che saranno legnuso riguardo a questa notizia e non neanche intenzione di starmene con le mani in mano, intenzione un attimo di informarmi e cercare di capire se effettivamente entrerà in vigore necessariamente e potenzialmente questa legge oppure no. In questo momento non sono granché positivo perché da quel che so i referendum non sono applicabili in maniera fiscale, non penso che si possano fare delle petizioni quando il governo prende una decisione, come in questo caso una decisione economica. Chiedo innanzitutto se ci sono avvocati all'ascolto, chiunque sia competente in maniera fiscale e legislativa, di farmi sapere sotto nei commenti se effettivamente c'è qualcosa che si può fare andando a riunire un certo numero di persone perché ci sono io ma ci sono anche altri investitori che hanno una community importante, di conseguenza se si può fare qualcosa ovviamente sono il primo a mettermi in prima linea. Questo è il momento da cripto investitori di rimanere uniti, quindi seguitemi su YouTube, su Telegram, sul mio gruppo Telegram perché farò degli aggiornamenti, seguitemi anche su Instagram e soprattutto scrivetemi su Instagram. Soprattutto nel caso in cui siate esperti in materia e pensate che effettivamente ci possa essere una soluzione, anche se ripeto in questo caso la vedo un po' dura. Quindi ancora una volta ovviamente cercherò di monitorare la situazione, di fare degli aggiornamenti, passiamo ora invece molto velocemente a Bitcoin. Allora per quel che riguarda Bitcoin nel mio ultimo video ho pubblicato qualche giorno fa dei aggiornamenti che ho fatto su Telegram, ho detto che mi aspettavo un pump di Bitcoin, ho aperto le posizioni long, abbiamo chiuso in maniera anche anticipata a vedere dal pump che c'è stato completamente la posizione intorno ai 65.000 dollari, anche se in realtà ho detto che mi aspettavo una continuazione della risalita. Poco fa abbiamo superato i 68.000 dollari. La situazione in questo momento sembra alquanto bullish per Bitcoin nonostante le pessime notizie del nostro paese. La situazione però in questo momento è anche abbastanza particolare, proprio perché se prendiamo settimanale in questo momento Bitcoin è molto molto bullish, a mio personale parere la situazione è molto interessante. Questa struttura mi piace tantissimo, come mi piace anche tanto la struttura del giornaliero dove abbiamo fatto tutta una serie di higher high e higher low. anche l'RSI quindi relative strength index, quindi l'indice che va a misurare la forza dell'asset in questione che è Bitcoin è molto molto forte in questo momento. In casi come questi molti dicono che l'RSI è in overbought quindi è molto alto, di conseguenza significa che arriverà necessariamente una correzione, una discesa dell'RSI, ma non c'è da sottovalutare il fatto che l'RSI può anche rimanere parecchio alto, andare anche in overbought, soprattutto in asset molto aggressivi come Bitcoin per parecchio tempo. Altro dato positivo ed importante che in questo momento c'è una sanissima Bitcoin Domainous che sta continuando a salire. Quando la Bitcoin Domainous continua a salire significa che il mercato è sano. Nonostante una Bitcoin Domainous che continua a salire porta correzioni sulle altcoin come abbiamo visto nell'ultimo giorno, nell'ultimo paio di giorni. Infatti abbiamo visto Bitcoin parecchio verde mentre le altcoin stanno scendendo. Ma chi ha da anni dentro le crypto sa molto bene che il ciclo è sempre il medesimo, quindi Bitcoin sale, quindi la Bitcoin Domainous continua a fare dei nuovi massimi e successivamente seguono le altcoin in maniera più aggressiva. Quindi prestare particolare attenzione prossimamente anche alla Bitcoin Domainous. Abbiamo visto quindi i lati principalmente positivi in questo momento, parliamo anche di un paio di dati potenzialmente negativi che quindi non si possono escludere a prescindere. Quindi nonostante personalmente rimango bullish sono anche molto più cauto intorno a questi livelli perché innanzitutto ci troviamo sotto alla resistenza diagonale che ci ha mantenuto in un downtrend negli ultimi mesi, facendoci fare tutta una serie di lower high ed inoltre poco al di sopra, quindi intorno ai 69,5-70 mila. Troviamo anche un'altra resistenza molto importante che sono il livello dell'all time high del ciclo precedente, quindi un livello ripeto molto importante ed inoltre il massimo di luglio che ci potrebbe mantenere una fase di lower high. Quindi in questo momento sono sicuramente ottimista e penso che ci siano delle ottime probabilità di continuare a salire potenzialmente di fare un all time high nelle prossime settimane. Dall'altro lato sono anche abbastanza cauto soprattutto per quel che riguarda delle posizioni long, proprio perché ci troviamo sotto due importanti resistenze. Nel caso in cui dovessimo rompere queste resistenze e consolidare al di sopra, andremo a cambiare radicalmente la struttura bearish che in realtà è già cambiata nelle ultime settimane, nell'ultimo paio di mesi, ma personalmente nel momento in cui dovessimo andare al di sopra dei 70 mila, sicuramente ci sono un paio di resistenza al di sopra come i 71 e 7, 71 e 8 e poi il massimo dei 73 e 8, 74 mila circa, ma nel momento in cui dovessimo consolidare al di sopra, ecco attribuisco delle ottime probabilità nel breve e medio termine di andare a fare un all time high, un nuovo massimo storico. E lì la situazione diventerebbe molto interessante non solo per Bitcoin ma anche per le altcoin. Quello che mi piacerebbe vedere da Bitcoin appunto per delle posizioni long, innanzitutto la rottura potenziale dei 70 mila con dei veloci scalp long, nel caso invece di correzioni mi piacerebbe che Bitcoin andasse a supportare il livello dei 64 e mezzo, 65 mila dollari circa, che è anche sempre una fascia di prezzo in cui molto probabilmente andrà ad aprire delle posizioni long. Ovviamente posizioni la però con Bybiti qui trovate il link sotto in descrizione, trovate anche il bonus in questo momento sul primo deposito che va fino a 30 mila dollari. Quindi ragazzi questo era un aggiornamento molto molto rapido, ancora una volta vedremo quali saranno le notizie prossimamente di questa porcata di legge che il governo italiano vuole andare ad implementare. Ovviamente io come al solito farò dei aggiornamenti quindi iscrivetevi in tutti i vari canali che trovate nel link sotto in descrizione. Io come al solito spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo molto molto presto nel prossimo video.